ciao a tutti prima di iniziare con l'allenamento vi consiglio di prendere le misure sui punti critici del corpo braccia glutei addome e gambe potete utilizzare un semplice metro da sarta oppure un picometro che potete acquistare su internet alla banale cifra di 10 euro arriviamo alle misure ci sistemiamo così come vedete la mano sull'addome puntiamo la spalla e la punta del gomito e cerchiamo la metà del tricipite quindi applichiamo il picometro schiacciamo e troviamo un numero idem a un centimetro dall'ombelico ripigio e rischiaccio e trovo il secondo numero vado poi sul quattricipite in questo caso destro tenendo il peso sulla gamba sinistra punto col mignolo sull'anca e l'altro mignolo sulla punta del ginocchio e vado a cercare il centro del quattricipite e trovo il terzo numero a questo punto dopo un mese riprendo le misure se avrò fatto un buon allenamento e avrò seguito bene l'alimentazione avrò sicuramente il risultato i numeri saranno più bassi